Estra aumenta il numero delle rate con cui è possibile pagare le fatture superiori a 150 euro. L'agevolazione per famiglie e imprese riguarda bollette luce e gas emesse dal 1 gennaio al 31 marzo. Tutti i clienti Estra possono richiedere la rateizzazione applicata senza spese né interessi alle bollette in scadenza o scadute da 10 giorni. Sono previste fino a 7 rate per importi superiori a 2.500 euro. Anche Estra ha aderito a Millumino di Meno, giornata nazionale del risparmio energetico, promossa dal 2005 da Rai Radio 2 e Caterpillar, dedicata quest'anno alle comunità energetiche. Aperto nel comune pratese di Montemurlo, il nuovo store di Estra. Nello store si possono sottoscrivere offerte commerciali di gas e luce, ottenere preventivi e consulenze e sbrigare tutte le pratiche se clienti Estra. Nello Blood Nello è DAY Nelloume di Meno Nello 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 Grazie a tutti.